Quando torno a casa con la pagella, mamma già in mano una grossa padella, come ti è andata? Posso vederla, se hai insufficienze da qui esci in barella. Le imploro risparmia, mi giuro andrò meglio, lei fissa con strana espressione il coltello, le dico guardiamo l'aspetto migliore, ancora il mio ottimo in religione.